Passaggio di staffetta da Don Angelo Gambino a Don Sergio Bonvissuto nella guida pastorale di Santa Maria degli Angeli ad Agrigento, un momento molto partecipato che ha visto ambedue presbiteri concelebrare la messa. Nella commozione generale i vari messaggi di saluto sono stati loro rivolti dalla comunità parrocchiale di Madonna degli Angeli e di ringraziamento a Don Angelo per come si è adoperato in favore di quest'ultima chiesa, conosciuta anche come la porciungola di Agrigento. L'avvicendamento parrocchiale avvenuto vede l'uno nuovo parroco a Castrofilippo, mentre l'altro già parroco a San Michele e Badiola. Assumerà anche la guida di Santa Maria degli Angeli nell'unità parrocchiale così costituita. L'auspicio è che, come dice San Paolo nella lettera ai Corinti, vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra di voi, ma siate in perfetta unione, pensiero ed intenti.